buongiorno a tutti e buongiorno a tutte le nostre clienti oggi il tempo è più clemente della settimana scorsa e mi sono arrivati dei nuovi arrivi di teli mare stupendi sperando che la stagione cominci a essere più sempre più clemente e vi aspettiamo per gli acquisti grazie mille a tutti buongiorno a tutti siamo a chioggia per fortuna non c'è brutto tempo oggi quindi si sta bene un po ventilato però insomma le temperature dicono tenderanno a crescere quindi veniteci a trovare che abbiamo tutta la nuova collezione a disposizione di cerimonia casual tutti gli accessori sono arrivate tutte le nuove borse anche le nuove cinture venite seguiteci anche sugli altri mercati su facebook ed instagram e che dirvi vi aspettiamo buona giornata a tutti buongiorno amici buongiorno al popolo di chioggia oggi super giornata in quel del giovedì del mercato il tempo tiene finalmente ne siamo molto contenti c'è il vento giornata ventilata vorrà dire che venderemo le ultime giacchine spolverini di primavera per la settimana prossima poi vendere canottiere pantaloncini corti cari signori avete visto che temperature e noi siamo qui pronti con tante proposte e novità ad ottimi prezzi abbigliamento da bimbo e bimba moda bimba da lucia tutti i giovedì di fronte all'ingresso principale del municipio vi aspettiamo intanto in tanti un saluto alle nostre clienti buona giornata da chioggia giornata un po uggiosa non bellissima ma dai mercato c'è teniamo duro e un saluto alle tutte le belle donne di chioggia tutti i chiocciotti buona giornata ciao ciao amici miei di chioggia oggi finalmente è una bella una discreta giornata rispetto a quella di giovedì scorso con vento e pioggia oggi siamo un po più contenti perché c'è tutto il mercato e anche c'è parecchia gente sono sempre contento di vedervi e vi do un grossissimo salutone e un bacione ciao a tutti ciao grazie